con dei gran numeri inizia intanto la partita con l'attacco Novara vediamo la prima azione invece per Vallefoglia con Cosceleva la ricezione di Bosetti sulla testa ai Battistoni Chirichella prova a forzare ancora in difesa si supera Vallefoglia altra possibilità per Novara con Carcasses una fucilata in parallela per Tenea Carcasses ancora Novara a ricostruire con la bordata di Caraccio in diagonale Danesi la battuta attesa su Cosceleva che poi va ad attaccare il murone di Carcasses e Chirichella vicino a Stefano Lavarini che ammette la battuta a Carcasses deve andare in pallonetto è troppo distante Anco che non ci arriva il primo ace della sua partita Anco che dietro da Piani credo sia il primo attacco Coccamancini 17-12 la ricezione deve correre Battistoni Caracurt non può attaccare Fribol per Vallefoglia mal gestita questa ricostruzione allora la Fribol questa volta ce l'ha Novara Caracurt con palla staccata c'è il muro poi la difesa di Cosceleva Anco che va da Dodorico la difesa di Fersino Battistoni palla dietro per Caracurt deve frenare la rincorsa c'è la difesa di Anco poi Mancini manda di là Carcasses scusate Alexic che poi va a murare più 5 in pieno controllo incezione di Piani e poi il murone di Chirichella per la Igor ancora con Carcasses dai 9 metri incezione di Sirressi poi dalla seconda linea arriva però un altro murone una variazione di rotazione di Labarini che in realtà sta già usando perché il libero entra per Carcasses che adesso va ad attaccare dalla seconda linea e adesso Battistoni attenzata fuori la palla che invece tocca la linea di fondo ancora Alexic Cosetti prova a insaccare le dice bene già 8 punti per Ebrara Caracurta ha iniziato intanto il secondo set inizia con una parallela vincente di Kosceleva Danesi la ricezione di Dodorico anche per Piani il murone ricezione di Bosetti Battistoni per Carcasses ben sopra il muro e dunque 11-10 Novara con Ebrara Caracurta dai 9 metri ricezione la palla a Filorete chi richieda però a correggere c'è Dodorico che poi va ad attaccare in diagonale la difesa di Bosetti e poi Caracurta tocca il muro la difesa di Sirressi all'indietro deve fare un passo all'indietro Hancock non passa Dodorico e poi Carcasses battezzata fuori la palla da Questioneis che va a togliere un po' di regnatele dal campo di Vallefoglia e attenzione perché Novara se ne va e dunque si riparte dal 14-10 con Novara che prova ad allungare questa fase a lei favorevole la ricezione anche al centro per Mancini angola verso posto 1 e dunque tocca Mancini la seconda linea una bordata terrificante la ricezione di Cosceleva in tuffo poi Piani va a schiantarsi contro il muro 19-14 Sofia Dodorico in battuta ricezione di Fersino Battistoni per il pallonetto di Bosetti e dunque Alexic con Vallefoglia che ha rosicchiato qualche punticino ma ce ne sono ancora 5 a disposizione di Novara per controllare il set e dunque tocca a Bosetti in battuta ricezione di Cosceleva fuori ai tre metri Hancock va da Lutz 23-17 Sara Bonifacio in battuta ricezione di Fersino la tiene su sulla testa di Hancock poi Piani la difesa distinto di Bonifacio Bosetti la manda sul profondo dove c'è Sirressi al centro Hancock innesca Mancini la difesa di Bonifacio da ferma Caracourt che non forza allora il tentativo di ricostruzione finito poi a conclusione di Cosceleva Murata altra possibilità per Piani a tutto braccio il muro poi la difesa e adesso tocca Novara con Carcass difendi 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 saranno sette a disposizione della Igor ricezione di Dodorico Hancock per Mancini angola il suo Cosceleva Riccino e Bosetti Battistoni va da Carcass la palla si impegna ed è imprendibile finisce anche il secondo set sulla Giurica Novara 25-19 adesso vediamo impegnata in battuta persino poi Papa accelera le operazioni di specie devo dire abbastanza proprio consueta Hancock fuori misura la sua palla per Alexis che la possono appoggiare di là allora Bosetti la risposta c'è la gran difesa di Piani e poi Papa in pallonetto dove c'è Caracurt Battistoni va da Bosetti in diagonale stretta la sua carriera intanto in difficoltà Novara e allora la risposta in Cosceleva sopra il muro problemi in ricezione per Papa Cosceleva una palla pulitissima vediamo come Vallefoglia esce a questa situazione con l'attacco di Hancock neanche troppo forzato il pallonetto in Caracurt arriva Sirressi ma ancora una volta manca la ricostruzione Vallefoglia allora ci prova Novara gran difesa di Papa su Carcass poi Cosceleva ma arriva il murone di Sara Bonifacio alle sue giocatrici Hancock va da Cosceleva con palla staccata il muro poi la difesa ai Battistoni Fersino in bagger per Caracurt sopra il muro trova una parabola pazzesca Ebrard Caracurt 26 dicembre per l'ultima di andata in trasferta mentre Vallefoglia ospiterà Macerata Cosceleva in uscita dal time out trova il punto numero 12 in battuta ricezione di Fersino poi Carcass è il muro e la difesa di Sirres in mezzo al campo Hancock per Cosceleva Murata altra possibilità ancora Hancock per Piani Caracurt prova a chiudere subito attentissima Fersino poi Bonifacio Muramancini ricezione di Bosetti Carcass va in pallonetto Hancock la tiene su Sirres per Papa Murata la copertura di Piani e ancora Papa la domestica sul profondo dove c'è Bosetti poi Carcass ancora in diagonale imprendibile c'è una battuta di Caracurt non riesce a costruire l'azione Vallefoglia allora Chirichella chiede la palla a terra non arriva il fischio poi Sirotta Muro la palla ancora nel campo di Novara Caracurt palla staccata problemi in difesa per Hancock che allora altra possibilità per Novara con Chirichella tra l'altro Barbero per Cosceleva Carcass in pallonetto poi Piani Murata da Chirichella Vittoria Piani in battuta 20-15 il punteggio per Novara che avanti anche 2-7-0 Bosetti va in parallela e adesso va in battuta Valeria Papa ricezione di Giovannini Battistoni per Bosetti in pallonetto Caterina Bosetti 22-7 sono stati 7 nel secondo 3 nel primo Carcass va a ricevere e poi si resta si prova a infilare la palla la mano sotto la palla ce la fa ma poi non ci sono compagne grazie 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 a tutti.